E oggi, questione 66, siamo ad un argomento particolare che è l'uguaglianza delle virtù, ma le virtù sono tutte uguali? Cosa ci dice Sant'Omaso? Siamo al 28 di gennaio 2024 e in questo giorno noi ricordiamo Sant'Omaso d'Aquino. E a me vengono spontanei certi commenti che sono più cattiverie che commenti, non l'ho sentito nominare da nessuna parte, non so, mi pare che i nostri presbiteri abbiano timore di nominare un dominicano. Un mio caro amico, se amico si può definire, sacerdote canonico, tutti gli anni mi mandava gli auguri per San Vincenzo, il mio San Vincenzo Ferreri, quello con la tromba, il predicatore, il dominicano. Quando io insistevo e ripetevo, guarda che non è la mia festa San Vincenzo de Paoli, la mia è San Vincenzo Ferreri, 5 aprile. La cosa è andata avanti per 6-7 anni e poi l'amico canonico non mi ha mandato più nessun augurio. Non so come mai i domenicani non sono più tanto amati, eppure l'ordine dei predicatori. C'è da chiedersi addirittura se i domenicani amino se stessi, amino i loro grandi maestri. Non mi inoltro più di tanto, perché veramente mi mancherebbe la prudenza. Stiamo parlando di prudenza, stiamo parlando di una virtù che dovrebbe guidare tutte le altre virtù, e allora sarebbe un grave peccato contro lo stesso Santo Maso che abbiamo eletto come nostro maestro. Articolo primo, vi detto, sembra che una virtù non possa essere maggiore o minore di se stessa o di un'altra. Vediamo nel set contra. Dove è possibile l'aumento e la sovrabbondanza? Può esserci disuguaglianza. Ora, nelle virtù non manca sovrabbondanza e un aumento, poiché nel Vangelo Matteo 5,20 si legge, se la vostra giustizia non sarà più abbondanta di quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli e nei proverbi. Quindi il livello di giustizia degli scrivi e dei farisei non era tale da dare e lascia passare per il regno dei cieli. Cari miei, sono terribili queste parole, perché noi dovremmo superare quella giustizia degli scrivi e dei farisei, altrimenti ne neppure noi tremmo nel regno dei cieli. E in proverbi leggiamo, in sovrabbondante giustizia è somma virtù. Quindi la giustizia può sovrabbondare, essere abbondante è anche sovrabbondante. Dunque la virtù può essere maggiore o minore, però la questione deve essere vista in due prospettive differenti. La questione se una virtù possa essere maggiore dell'altra si può intendere in due modi. Primo, a proposito di virtù specificamente diverse, perché io potrei anche fare riferimento alla stessa virtù in Paolo e in Luigi e pensare ma quale dei due sta vivendo in una virtù in riferimento a questa condizione, a questo stato di vita maggiore o minore. Qui invece stiamo parlando di virtù specificamente diverse. Allora è evidente che una virtù è maggiore dell'altra, infatti una causa è sempre superiore ai suoi effetti. Ora, causa è radice del bene umano e la ragione, perciò la prudenza che opera attraverso la ragione sovrasta in montale a altre virtù morali che operano attraverso la parte appetitiva in quanto partecipi della ragione. La prudenza, abbiamo detto, è la radice di tutte le altre virtù, perché è quella che è alimentata e guidata dalla ragione, la prudenza guida tutte le altre virtù. Quindi la prudenza, proprio perché partecipa maggiormente della ragione, così tutte le virtù che partecipano maggiormente della ragione rispetto a quelle che ne partecipano in misura minore, sono superiori delle altre. Quindi c'è sempre di mezzo la ragione. Una virtù, non stiamo parlando evidentemente qui di virtù teologali, stiamo parlando di virtù morali, perciò ci può essere effettivamente una virtù morale superiore all'altra. Secondo, la questione può essere intesa a proposito di virtù della medesima specie. Parlando dello sviluppo degli abiti, una virtù può dirsi maggiore o minore sotto due aspetti. Primo, considerata per se stessa. La grandezza di una virtù si misura dalle cose cui si estende. E in questo, dissero bene gli stoici, come riferisce Simplicio, che la virtù non ammette il più e il meno. Perché? La virtù consiste essenzialmente in un massimo. Stiamo parlando però della virtù simpliciter, presa in modo assoluto, presa in sé stessa. La virtù c'è o non c'è? Non c'è una via di mezzo, non c'è una virtù che arriva fino a quel livello e si può chiamare virtù, mentre l'altra condizione di quella virtù può essere maggiore. La virtù è sempre un massimo, un massimo. Attenzione però, non stiamo definendo la virtù rispetto al soggetto Mario Filippo Andrea, perché in questo caso allora le cose devono essere viste sotto una prospettiva completamente differente. Se invece si considera la virtù dal lato del soggetto Mario, Andrea, Filippo, Bartolomeo, che ne partecipa, allora essa può essere maggiore o minore, sia per la diversità dei soggetti, perché i soggetti sono differenti, no? E vedremo anche in che cosa. Sia rispetto alle varie epoche, quindi c'è una prospettiva sociologica già in Tommaso d'Aquino, c'è una contestualizzazione storica, quella cui faccio sempre riferimento io, che Tommaso d'Aquino sottolinea in modo particolare. capite come sia differente in riferimento, pensate alla purezza, alla castità o semplicemente a un giusto mezzo tra due estremi, come si poteva vivere mille anni fa e come si vive oggi tempestati da messaggi e impulsi che sono sempre pieni di quella componente erotica. Quindi le epoche differenti, la società differente, la condizione di chi vive con dei violenti e la condizione invece di chi vive una famiglia in cui si pratica l'amore e la carità. Se siete nel medesimo soggetto, uno può essere meglio disposto di un altro, o per maggiore pratica, o per una migliore disposizione naturale, o per un giudizio più perspicace della ragione, non in tutti la ragione si presenta nella stessa misura con le stesse capacità, oppure per un maggior dono di grazia concesso liberamente da parte di Dio alle singole creature. abbiamo visto che ci sono anche dei santi che si sono caratterizzati per delle virtù eccezionali, per dei doni eccezionali, quindi la ragione, la disposizione naturale, la condizione sociale, eccetera, le scherce. Il quale a detta di San Paolo, Efesini 4,7, viene arragito a ciascuno secondo la misura della donazione di Cristo. E qui ritorniamo ai talenti. A uno viene dato uno, due, tre, quattro, dieci, in riferimento ad una virtù o ad un'altra. Infatti, per la ragione raggiunga il giusto mezzo della ragione in un punto indivisibile. Ne abbiamo parlato in medio stat virtù, sì, ma quel medio, quel medium, è un medium che è differente in ogni soggetto, ma basta tenersi presso il mezzo, come diceva Aristotele, qualora che in un soggetto quella particolare virtù eccellerà in modo differente che in un altro soggetto. Quindi esiste un più e un meno. Mentre, da un punto di vista assoluto, no. Secondo un quid, sì. Vediamo le obiezioni che sono tante. Allora, la virtù consiste essenzialmente in un massimo. San D'Acostino insegna che le virtù sono massimi beni, dei quali nessuno può usare malamente, dunque la virtù non può essere né maggiore né minore. Qui stiamo facendo riferimento ad una virtù intesa simpliciter, cioè in sé stessa. Ma le virtù perfette, che sono le virtù infuse, vengono da Dio, la cui potenza è uniforme e infinita. Perciò non sembra che una virtù possa essere maggiore di un'altra. Sì, ma nell'ordine dell'universo noi abbiamo detto che c'è un più e un meno e in riferimento a questo più o meno Dio liberamente concede un talento, due talenti, dieci talenti. Non c'è necessariamente una uniformità. Perciò queste obiezioni le abbiamo risolte. Andiamo all'articolo 2. Sembra che le virtù esistenti in un identico soggetto non siano tutte ugualmente intense. Andiamo subito al cuore dell'argomento che io, voi capite, non sono all'altezza di Tommaso, non ho ben capito. Perché Tommaso fa una distinzione tra virtù formale e la condizione di un soggetto nella sua costituzione di soggetto, che differisce da un altro soggetto. Comunque, vediamo. Tommaso fa riferimento a Sant'Agostino. Quelli che sono uguali nella fortezza lo sono pure nella prudenza e nella temperanza. Ma questo non potrebbe avvenire se tutte le virtù di un medesimo uomo non fossero uguali. Perciò le virtù di un dato uomo sono tutte uguali. Sì, perché il ragionamento è questo. Se io non sono prudente, in certi momenti in cui devo esercitare la fortezza, come quando devo esercitare la temperanza, la mia prudenza non è perfetta. Non è all'altezza della fortezza. La grandezza delle virtù, come abbiamo spiegato, si può considerare sotto due aspetti. Primo, rispettivamente alla loro natura specifica, allora non c'è dubbio che una virtù di un dato individuo può essere maggiore di un altro. L'abbiamo visto. In riferimento alla ragione, quella virtù che partecipa maggiormente della ragione è superiore all'altra. Qui stiamo facendo riferimento alla natura specifica delle virtù. Secondo, si può considerare in rapporto alla partecipazione del soggetto, cioè in quanto cresce o decresce in chi la possiede. E abbiamo visto che in riferimento al soggetto la virtù non si trova necessariamente al massimo, ma dipende da certe situazioni contingenti. E da questo lato tutte le virtù di un dato individuo sono uguali per una certa uguaglianza di proporzionalità. Perché Tommaso dà per scontato che debba esserci tra queste virtù una certa connessione anche in riferimento a quello che scrive Agostino. Per poi, però, nell'ultima osservazione che leggeremo, fare una specie di marcio indietro, almeno nella considerazione del contingente, del soggetto. Non so se è chiaro quello che stiamo cercando di dimostrare. Se aumenta la prudenza deve aumentare la fortezza e allo stesso tempo deve aumentare la giustizia, le virtù. La nozione di questa particolare uguaglianza deve essere definita come quella della connessione, che può essere definita in due maniere. Vediamo. Per me la prima è più convincente. Primo, seguendo la teoria di coloro che considerano le quattro virtù cardinali come quattro condizioni generali delle virtù. E a questo punto Sant'Agostino fa un ragionamento che è ineccepibile nel sostenere questo concetto. Se tu dici che questi due, Mario e Giuseppe, sono uguali nella fortezza, ma che il primo è superiore nella prudenza, quindi sono come fortezza eccezionali, tutti e due sullo stesso piano, però è il primo superiore in prudenza. Ne segue che la fortezza del secondo è meno prudente. E per questo non sono uguali neppure nella fortezza, perché sono le quattro virtù collegate assieme. La stessa fortezza, essendo meno prudente, non può essere uguale alla fortezza del primo come avevamo stabilito all'inizio, dal momento che la fortezza del primo è più prudente. E così troverai che è delle altre virtù, se provi a esaminare, tutte allo stesso modo. Perciò, secondo questa connessione, le quattro virtù o aumentano assieme o diminuiscono assieme. Secondo, la connessione della virtù, il motivo della connessione della virtù morale deriva dalla prudenza, ecco, quel denominatore comune, e poi dalla virtù infusa dalla carità. Ecco perché anche la nozione dell'uguaglianza tra le virtù si può desumere dalla prudenza, per quanto riguarda l'elemento formale di tutte le virtù morali. Quindi, se una virtù è più prudente di un'altra, vuol dire che la prudenza agisce in modo differente su una virtù e sull'altra virtù. Ma allora la virtù della prudenza non è tale perché su una virtù agisce meglio che sull'altra e quindi una partecipa di più o di meno della ragione. Mi piace però la conclusione riguardo all'inclinazione, perché qui abbiamo fatto riferimento alle virtù formalmente. Ma, formalmente, secondo me è un discorso abbastanza astratto. È più concreto valutare l'inclinazione, perché la virtù non è qualcosa di astratto. Noi l'abbiamo studiato nella prospettiva realista di Aristotele e di Tommaso che la virtù si incarna in un soggetto. Non esiste la virtù fortezza nell'iperuraneo come esisteva in Platone. Quindi un individuo può essere più portato all'atto di una virtù che a quello di un'altra. Cioè, sostanzialmente, Tommaso dice, le virtù formalmente sono uguali, però l'atto, il momento in cui vengono concretizzati nell'azione quotidiana, ecco, ad una virtù il soggetto può essere più portato che all'altra. Perché comunque la virtù è espressione di un sinolo di materia e forma e perciò quella materia che rende l'individuo tale può anche esplicitarsi in modi differenti. Non mi convince, perdonatemi, non mi convince questa differenziazione. La vediamo anche nelle obiezioni. L'Apostolo scrive ciascuno ha il proprio dono da Dio, l'uno così, l'altro in un altro modo. Ma questo l'abbiamo visto, sono i talenti. Ora, un dono non sarebbe per uno più appropriato di un altro se ciascuno possedesse ugualmente tutte le virtù infuse per un dono di Dio. Perché, se, in riferimento a quello che abbiamo detto prima, i doni, le virtù, sono concatenate, nel momento stesso in cui viene donata una, automaticamente vengono donate tutte. risposta. Qui le leggo, perché è inutile che cerchi io di dare una risposta quando questo pensiero non mi è chiaro. Le parole dell'Apostolo si possono intendere delle grazie gratisdate che non sono comuni a tutti e che non sono uguali in ciascuno. Quindi qui non più parliamo, secondo Tommaso, di un abitus, di una virtù, ma di una grazia, data gratuitamente. E quindi, non possiamo intendere che, data un talento, automaticamente, che determina una virtù, siano date tutte le virtù in ugual modo. Andiamo al secondo. I vari santi vengono lotati particolarmente per virtù differenti. Avramo per la fede, Mosè per la mansuetudine, Giove per la pazienza, perché ciascuno ebbe la prerogativa di qualche virtù. Dunque, non tutte le virtù sono uguali nel medesimo soggetto. La risposta, in inferimento a quello che ha scritto nel rispondeo, è questa. Certo, Abramo si è messo in evidenza per la sua fede, Mosè, sulla mansuetudine e Giove per la pazienza, ma Giove aveva anche mansuetudine e fede nella misura della pazienza. E Mosè possedeva la fede e la pazienza nella misura della mansuetudine. Soltanto che nell'atto non sempre possono venire in superficie, possono venire all'attenzione degli altri quelle virtù che ci sono, ma che in particolari situazioni rimangono nascoste. Questo in riferimento alla disquisizione che ci ha dato Tommaso da Respondeo. Questo capita anche per i santi, che vengono ricordati per specifiche virtù, ma questo non vuol dire che questi santi della Chiesa non siano ugualmente virtuosi anche nelle altre virtù e in egual modo. Questo è ciò che è sostenuto da Tommaso, perché ciascuno ebbe la prerogativa di qualche virtù, eccetera. Questo l'abbiamo già detto. Vediamo la terza. L'esperienza dimostra che uno compie con maggior piacere e prontezza le azioni di una virtù che quelle di un'altra. Quindi non tutte le virtù sono uguali. Qui però sempre in riferimento al Respondeo il fatto che un soggetto compia con maggior piacere e prontezza le azioni di una virtù piuttosto di un'altra non vuol dire che non abbia l'altra virtù, ma semplicemente nell'attuazione differisce dal Mario, differisce da Giuseppe semplicemente per una situazione che è legata alla sua costituzione individuale di persona che lo fa differire da qualsiasi altra persona. Quindi un conto è, questo è quello che ho capito, un conto è poter dire io formalmente ho questa virtù e automaticamente ho tutte le altre. Nella prospettiva della prudenza, ad esempio, perché se la prudenza mi guida a una virtù non può non guidarmi anche le altre, se no mancherebbe anche nella prima virtù. La prudenza c'è o non c'è. Perciò queste virtù formalmente sono presenti nel soggetto. Poi rispetto alla situazione di cui abbiamo già detto, l'inclinazione, la situazione sociale, le occasioni anche per mettere in evidenza queste virtù cambiano da soggetto a soggetto e quindi una si può manifestare più intensa dell'altra. Andiamo all'articolo 3. L'articolo 3 è decisamente più interessante. Vi detto, sembra che le virtù morali siano superiori a quelle intellettuali, anche perché il risponde o può essere applicato in maniera più estesa a situazioni più complesse. Una cosa può essere superiore o inferiore a un'altra in due maniere, simpliciter e secondo un quid. Niente impedisce che una cosa sia simpliciter o di per sé superiore ad un'altra, come il filosofare rispetto all'arricchire. Attenzione che è in perfetta sintonia con San Paolo, la lettura di San Paolo di oggi. San Paolo dice che indubbiamente servire il Signore è superiore che servire la propria moglie o il proprio marito. Ecco perché invita a riflettere attentamente sulla propria vocazione e il proprio percorso. Non andiamo a sconvolgere i pensieri di Paolo come fecero i cateri e gli albigesi per cui si faceva dire a Paolo di evitare il matrimonio, di evitare la procreazione un po' alla maniera di Schopenhauer secoli e secoli dopo. Paolo mette solo d'altra parte poi quando Paolo parla dei doni ognuno li ha in una prospettiva ben precisa. Perciò servire Dio è decisamente superiore a quello di servire la moglie o il marito o i figli o i genitori. Di questo non c'è dubbio. Quindi da un punto di vista assoluto bisogna guardare la natura delle singole virtù. Ogni cosa viene considerata per se stesso sia semplicita quando è considerata natura specifica. Perciò di per sé è superiore a quella virtù che ha un oggetto più alto. Amare Dio è certamente un oggetto superiore a quello di amare un'altra creatura. Ora è evidente che l'oggetto della ragione è più nobile di quello dell'appetito. Qui stiamo parlando in riferimento alle virtù morali e quelle intellettuali. Quelle intellettuali hanno come oggetto hanno come oggetto la ragione, quelle morali invece gli atti dell'uomo. Ora è evidente che l'oggetto della ragione è più nobile di quello dell'appetito poiché la ragione conosce le cose nella loro universalità. Perciò sempliciter le virtù intellettuali che danno compimento alla ragione sono superiori alle virtù morali che affinano l'appetito. Di questo non c'è dubbio. Le virtù morali sono quelle che danno all'appetito un giusto percorso, quel giusto mezzo che poi è un giusto mezzo per ogni singolo secondo la situazione in cui si trova, secondo le circostanze. Mentre l'altro è evidente che l'oggetto della ragione è più nobile di quello dell'appetito. Ma qual è l'oggetto? Sono gli universali, e come tali superano l'individuo l'individualità per cogliere già in un certo senso gli attributi divini. Ma attenzione al rovescio della medaglia. Se però si considerano le virtù in ordine all'attomo secondo un quid allora è superiore la virtù morale. E poiché il termine virtù deriva dall'essere principio di atti essendo perfezione di una potenza qui quel punto è virgola non ci sta una virgola è meglio ne segue che la nozione di virtù spetta maggiormente alla virtù morale che a quelli intellettuali. Attenzione non confondere la virtù nelle azioni quotidiane in senso assoluto nella sua natura dalla azione e quindi dalla virtù che noi dobbiamo esercitare un secondo un quid. Facciamo un esempio. dice sempre nel riferimento alla lettura di oggi anche quella stranamente queste letture non si commentano mai abbiamo portato le letture in italiano per commentarle bellissimo la prima lettura dell'Antico Testamento interessante il Salmo bellissima la lettura a San Paolo alla fine due parole sul Vangelo e basta. Allora non c'è dubbio che l'oggetto dell'amore quando è Dio è superiore a quello di quell'oggetto che è l'amore di una creatura però c'è un secondo un quid se io sono sposato ho dei doveri ben precisi che coinvolgono tante virtù morali e la giustizia stessa che mi pone in rapporto con qualcun altro mia moglie i miei figli e non perché sono sposato ma ci sono anche i genitori perciò non è che Dio venga al secondo posto io ho dei doveri secondo un quid che mi fanno dire e secondo la giustizia alla virtù della giustizia io necessariamente ho voluto percorrere questa strada adesso questa strada deve essere percorsa con giustizia e allora a questo punto il simpliciter viene messo da parte un esempio a me è capitato nei miei lunghi anni di docenza di avere due volte è capitato di avere dei figli dei testimoni di Geova che oltretutto padre e madre si erano divisi e il padre è andato in tutti due i casi i padri se ne erano andati via perché le due donne in anni differenti si erano legate ai testimoni di Geova voi sapete che io ho sempre l'ho dato ai testimoni di Geova per la loro testimonianza per la loro apostolata per la loro predicazione quello che i cattolici non fanno più perché una volta lo facevamo anche noi e cosa fanno ancora i cattolici però cosa succedeva in quel caso che i figli erano in crisi anche perché si trovavano in una famiglia divisa avevano dei problemi sia dal punto dell'istruzione sia dal punto dell'educazione e le mamme partivano tutti i giorni a predicare a destra manca indubbiamente il predicare era più importante in questo caso che l'educare da un punto di vista sempliciter ma è secondo un quid no eh io ho voluto avere un figlio oltretutto sono la mamma io prima di andare a predicare di porta in porta devo educare mio figlio specialmente se mio figlio si trova in una situazione è ancora minorenne e si trova in una situazione di crisi psicologica vedete l'oggetto della predicazione della buona novella indubbiamente è più importante dell'istruzione dell'educazione ma è secondo un quid lì sono dei genitori quindi a questo punto la virtù deve essere esercitata in riferimento alla situazione in cui mi sono trovato io ad esempio ho contestato una volta ma con amore con tanto amore più che altro non è una contestazione non è stata una contestazione è stata una riflessione amara di due medici uomo e una donna per me degli eroi che sono andati in zone particolarmente calde ad aiutare la gente che soffriva che moriva per questioni belli che avevano dei figli che le avevano lasciate i nonni e questi due medici si hanno lasciato la vita io certamente penso che il Signore li abbia glorificati però amici miei avete voluto dei figli prima dovevate pensare ai figli prima di andare specialmente in terre pericolose a rischiare la vita il secondo un quid cioè i figli che avete voluto qui sta al primo posto della carità che voi volete esercitare verso della gente che ha anche bisogno di medici è una cosa direi importante io direi è una questione di giustizia che ci pone nei rapporti con gli altri nel giusto ordine è la giustizia che regola questi questi ordini no per cui un conto ripeto è il simpliciter un conto secondo un quid altrimenti si commettono dei gravi errori intanto quei figli sono rimasti senza papà e mamma vediamo le obiezioni è certo migliore ciò che è più necessario di duraturo ora le virtù morali sono più durature delle discipline cioè delle virtù intellettuali e sono anche più necessarie della vita umana esse dunque sono da preferirsi alle virtù intellettuali ma anche qui bisogna vedere la situazione infatti risponde Tommaso l'oggetto delle scienze formato di principi necessari immutabili è più duraturo dell'oggetto delle virtù morali costituito da particolari azioni da compiere quindi non si vede per quale motivo quelle perché qui dice il contrario qui dice è duraturo le virtù morali sono più durature ma per me sono più durature quelle delle discipline che conoscono l'universale comunque infatti qui viene ribadito a questo principio costituito infatti dalle virtù morali l'oggetto da situazioni particolari il fatto poi che le virtù morali sono più necessarie alla vita non dimostra che sono superiori in senso assoluto ma solo in questo senso il secondo quid la virtù morale è importante in questa situazione più importante in questo momento la virtù della carità di avere mio fratello piuttosto che avere la laurea in matematica piuttosto che avere la laurea in filosofia ma da un punto di vista assoluto la filosofia è più importante della gestione del denaro capite senso assoluto e senso relativo ciò si verifica perché con le virtù intellettuali in qualche modo viene iniziata in noi la beatitudine che consiste nella contemplazione della verità quindi sotto un certo punto di vista assoluto le virtù intellettuali cominciano a contemplare l'assoluto gli attributi di Dio ciò che ci avvicinano a Dio e ci allontanano dalla individualità ma nella prospettiva quotidiana della vita di un uomo e per di più di un cristiano il secondo un quid arriva al primo posto specialmente se si deve esercitare la carità quindi anche qui dobbiamo vedere le prospettive se io sono sereno in pace non ho problemi indubbiamente le virtù intellettive sono più importanti ma se io mi trovo in una circostanza in cui devo correre in aiuto di papà di mamma di figli di moglie di marito voi capite che per un momento lascio stare gli studi metto da parte i libri devo correre in soccorso di chi ha bisogno di me dunque un uomo si dice buono per le virtù morali non già per quelle intellettuali se si eccettui la prudenza perciò le virtù morali sono migliori di quelle intellettuali beh noi ci dimentichiamo di una cosa che la prudenza è guidata appunto dalla ragione e ricordiamoci che questa cosa dimostra soltanto che le virtù morali sono superiori ad un certo aspetto quell'aspetto del secundum quid per cui nel momento in cui vedo questo mio figlio che ha bisogno di me lascio questi libri lascio le virtù intellettuali per soccorrerlo quindi sotto quell'aspetto in quel momento è più importante la virtù morale insiste Tommaso su questa cosa le virtù intellettive sono più importanti però da un punto di vista assoluto da un punto di vista relativo bisogna vedere la circostanza la situazione ancora un'ultima obiezione ma un uomo si dice buono per le virtù morali no il fine è superiore ai mezzi adesso ordinati ora detto di Aristotele la virtù morale rettifica l'intenzione del fine la prudenza invece rettifica l'intenzione dei mezzi ma la prudenza non fa riferimento soltanto ai mezzi fa riferimento anche al fine infatti Tommaso risponderà così la prudenza non soltanto guida le virtù morali con scegliere i mezzi ma anche quello per stabilire il fine ora il fine di ogni virtù morale consiste nel raggiungere il giusto mezzo secondo la reta ragione della prudenza quindi mi pare che sia chiaro il concetto questo articolo 3 direi che è piuttosto importante andiamo all'articolo 4 la giustizia la giustizia si può definire la prima tra le virtù morali secondo Tommaso sì la giustizia è la più splendida delle virtù dice Aristotele e vediamo il pensiero anche qui abbastanza complesso di Tommaso una virtù nella sua specie può dirsi sia maggiore che minore si dice maggiore in senso assoluto per il fatto che essa riluce un bene maggiore di ordine razionale come sopra abbiamo detto partecipando maggiormente della ragione questa virtù è superiore ad un'altra da un punto di vista assoluto non secondo un quede e da questo lato la giustizia sovrasta su tutte le virtù morali essendo la più vicina alla ragione e ciò è evidente per il soggetto dal momento che risiede nella volontà e la volontà è un appetito razionale per l'oggetto ossia per la materia dal momento che riguarda le operazioni con le quali l'uomo non solo viene ordinato in se stesso ma anche in rapporto agli altri pensate per un momento a un padre sul letto di morte o anche non solo sul letto di morte in un momento in cui vuole con un testamento dividere i suoi beni tra i propri figli in modo giusto per giusto vuol dire che deve tenere in considerazione la situazione il fatto che due o tre siano maschi due siano femmine quindi cosa dare alle donne alle figlie che cosa dare ai figli un figlio può essere più portato ad una cosa la figlia può essere più portata ad un altro è una valutazione tutta sulle operazioni e non è più come abbiamo già visto nelle questioni precedenti un trovare il giusto mezzo tra passioni opposte è un lavorio sugli rapporti che ci sono tra il soggetto e altre persone e l'oggetto in questione in questo caso un patrimonio e tra le persone stesse che si devono in qualche modo dirigere e verso le quali bisogna esercitare la giustizia e oltretutto questo esercizio risiede nella volontà e la volontà nel padre fare in modo che l'operazione che fa riferimento all'eredità sia il più giusto possibile e non è semplice ma questo esempio tenetelo a mente che poi ritornerà in un secondo momento quindi la giustizia al primo posto quello che deve maggiormente lavorare in riferimento alla luce della ragione e abbiamo visto già nelle questioni precedenti che la ragione deve esercitare un giusto mezzo su di sé innanzitutto nella valutazione delle persone e degli oggetti cui ci si rapporta tra le altre virtù morali che riguardano le passioni tanto in ciascuna più riluce il bene di ordine razionale quanto maggiori sono i beni in cui viene sottomesso la ragione e il moto dell'appetito qui non siamo più nella volontà che dove risiede un appetito razionale qui parliamo dei moti dell'appetito proprio del nostro corpo ora il bene massimo che l'uomo appartiene alla vita dalla quale tutti gli altri dipendono perché c'è una fortezza che viene dopo la giustizia la quale sottomette alla ragione i moti appetitivi riguardanti la morte e la vita tiene il primo posto tra le virtù morale aventi per oggetto le passioni la fortezza quindi giustizia primo posto fortezza secondo posto perché ha un bene superiore rispetto alla temperanza che deve regolare gli appetiti dell'individuo in riferimento al cibo e ai piaceri veneri attenzione però che le virtù possono in qualche modo variare quando non vengono considerate in modo simpliciter ma secondo un quid non in modo assoluto simpliciter ma secondo un quid allora quanto offre alla virtù principale la virtù che non è superiore è una specie di rifinitura una specie di ornamento facciamo un esempio di nuovo in riferimento a quello che abbiamo detto del papà che deve decidere il papà che decide anche in riferimento a un figlio che è stato scorretto disonesto pensato a figlio prodigo eppure in questa giustizia rifulge il senso della mansuetudine e della carità invece di adirarsi considerando il figlio che si è ravveduto dal male cui è andato incontro dell'offesa fatta al padre lo perdona non c'è ira non c'è moto di ira ma c'è la mansuetudine allora in questo caso anche se la mansuetudine in una prospettiva assoluta è meno importante della giustizia da una prospettiva secondo un quid secondo la situazione particolare diventa un punto di riferimento importante infatti il fiol prodigo è accolto dal padre noi lo ricordiamo ricordiamo proprio questa parabola non tanto perché il padre ha diviso in modo proporzionato i beni tra i due figli ma perché ha accolto con mansuetudine e col perdono e la carità quel figlio che si era perduto e che a un certo punto si era veduto ma quel padre era stato giusto innanzitutto aveva diviso la sua proprietà io certamente non l'avrei fatto primo aspetto che va dall'altro mondo poi io divido la proprietà se tu vuoi andare vai probabilmente io non sono giusto ha diviso la proprietà in due parti una l'ha dato un figlio l'altra l'ha dato l'altro figlio la giustizia ma rifulge nella parabola non tanto per la giustizia ma per il suo atto di amore il perdono e la mansuetudine ecco che fa dare finiture e se nel secondo un quid queste virtù si presentano più determinanti più importanti che lo stesso atto di giustizia che rimane pur sempre al primo posto e cosa più grande è importante questa osservazione è la prima e cosa più grande dare del proprio che rendere a qualcuno ciò che gli è dovuto ora la prima di queste cose spetta alla liberalità la seconda la giustizia dunque la liberalità è una virtù superiore a giustizia assolutamente no prima ci sta la giustizia poi c'è la liberalità noi abbiamo confuso molto spesso questo specialmente nei rapporti sociali nei rapporti politici prima devi dare a ciascuno il suo quello che si è meritato prima di pensare a essere liberale oltretutto col denaro degli altri non possiamo fare come Robin Hood non possiamo rubare al ricco per dare al povero quando doniamo siamo liberali dobbiamo innanzitutto dare del nostro l'atto della liberalità deve fondarsi sul lato della giustizia infatti come nota Aristotele non sarebbe una donazione liberale se uno non desse del proprio perciò la liberalità non potrebbe esistere senza la giustizia la quale stabilisce ciò che appartiene a ciascuno il giusto dona del proprio non può donare di un altro quindi prima ci sta la giustizia poi la liberalità prima ci sta la giustizia poi io posso anche esercitare la carità tuttavia la liberalità è superiore secondo un quinto essendo come una finitura della giustizia e un complemento di essa io sono giusto ho stabilito quello che è suo e quello che è mio a questo punto il mio lo dono a chi lo voglio donare per amore per carità per un aiuto a questo punto la liberalità diventa una rifinitura della giustizia ma prima ci sta la giustizia 2 c'è scritto in Giacomo la pazienza ha l'opera perfetta quindi la pazienza è superiore alla giustizia vediamo la risposta di Tommaso si dice che la pazienza ha l'opera perfetta per la sopportazione dei mali poiché in rapporto ad essi esclude non solo le ingiuste vendette come fa la giustizia non solo l'odio come fa la carità non soltanto l'ira come appunto fa la mansuetudine ma esclude persino l'eccessiva tristezza che è la radice degli effetti accennati ma la pazienza presuppone giustizia carità mansuetudine ma la fortezza non solo sopporta i malanni senza turbamento come fa la pazienza ma quando è necessaria ne va in cerca cosicché chi è forte è anche paziente ma non viceversa infatti la pazienza è solo una parte della fortezza io devo aver sbagliato una cosa la devo rivedere scusatemi qui fa riferimento alla giustizia la pazienza però mi sto accorgendo adesso però non rifaccio la registrazione abbiate pazienza nella risposta si fa riferimento alla fortezza quindi rivediamo il pensiero io invece avevo fatto riferimento alla giustizia e avevo detto appunto che il paziente innanzitutto è un giusto perché non utilizza la violenza e quindi la vendetta che sarà sempre agli occhi di Dio ingiusta perché solo Dio è colui che può vendicare essere l'indice di una particolare situazione qui facciamo riferimento anche alla carità alla mansuetudine però poi conclude sulla fortezza e Tommaso vede la pazienza come una espressione della fortezza e non c'è dubbio a parte il fatto che presuppone la giustizia di questo non c'è assolutamente alcun dubbio su questo poi abbiamo visto che dopo la giustizia c'è la fortezza effettivamente la pazienza più che essere un'espressione della giustizia è un'espressione della fortezza la fortezza d'animo è proprio questa ci rende anche pazienti e ci mette nella condizione di sopportare anche la l'offesa d'altra parte il padre nostro lo ricordiamo no? e rimette a noi i nostri debiti come li rimettiamo i nostri debitori questa è fortezza anche se siamo partiti dalla giustizia e basta così passiamo quindi all'articolo 5 la sapienza nonostante l'obiezione dica il contrario è la più grande delle virtù intellettuali perché? già il filosofo afferma che la sapienza è come il capo tra tutte le virtù intellettuali che per il filosofo la sapienza aveva come oggetto l'essere era la metafisica evidentemente con Tommaso la sapienza ha come oggetto esplicitamente Dio abbiamo già detto che la grandezza specifica di la virtù si resume dal suo oggetto ora l'oggetto della sapienza soppassa l'oggetto di tutte le virtù intellettuali essi infatti considerano la causa suprema che è Dio e considerando Dio come causa ecco che si arriva ai suoi effetti e mediante la causa superiore si arriva alla causa inferiore ecco perciò che la sapienza spetta alla sapienza il giudizio di tutte le altre virtù anche delle virtù intellettuali e l'ordinamento che c'è tra le virtù stesse ecco perché in questi precisi argomenti trattati da queste questioni voi vedete che ci sono molti riferimenti ai testi biblici perché i testi biblici sono conoscenza di Dio e quindi anche per ordinare queste virtù Tommaso non si serve solamente di Aristotele ma si serve anche della luce biblica vediamo subito le obiezioni chi comanda è superiore a chi è comandato ora sembra che la prudenza comandi alla sapienza assolutamente no perché la prudenza comanda agli appetiti vediamolo subito è impossibile che la prudenza sia una virtù più grande dal momento che la prudenza ha per oggetto le cose umane e la sapienza è la cosa suprema la prudenza comanda gli appetiti dà un equilibrio alle passioni e non ha come oggetto il sopranaturale perciò bisogna convenire con lui che la prudenza non comanda anche la sapienza ma si verifica piuttosto il contrario cioè è la prudenza che viene posta sulla retta via dalla sapienza come dice appunto Paolo l'uomo spirituale la sapienza giudica tutto ed egli non è giudicato da nessuno infatti la prudenza non ha il compito di trattare le cose supreme oggetto della sapienza ma comanda quanto è proordinato la sapienza e cioè le vie per cui l'uomo deve raggiungere la sapienza perché c'è la prudenza che regola le virtù e cerca quello che abbiamo definito il giusto mezzo ma per condurre l'uomo sulla via della sapienza e poi direi prima ancora della via della sapienza le virtù intellettive che culminano nella sapienza perché abbiamo visto che la sapienza è poi un punto di riferimento a cui si giunge attraverso l'intelletto e la ragione la sapienza utilizza l'intelletto e la ragione quindi c'è un passaggio della prudenza che dà ordine e trova il giusto mezzo delle varie virtù con lo scopo di fare quel passo di qualità che porta la persona alle virtù intellettive che culminano nella sapienza ma è la sapienza che imbocca la prudenza a fare in modo tale che le virtù siano rivolte non solo ad un fine immediato ma ad un fine ultimo e anche se la virtù non colga il fine ultimo il fine immediato comunque è ordinato al fine ultimo da che cosa? dalla sapienza che guida la prudenza andiamo avanti dunque dove siamo arrivati? siamo arrivati al numero due eccolo qui per definizione la virtù è fatta per ordinare l'uomo alla felicità infatti la virtù è la disposizione di un essere perfetto all'ottimo come dice Aristotele ma la prudenza è la retta ragione delle azioni da compiere mediante le quali l'uomo arriva alla felicità dunque la conclusione se la prudenza ha questo obiettivo è superiore alla sapienza sì però la sapienza admira la felicità ultima non la felicità immediata quindi è superiore alla prudenza vediamo la risposta che però si sviluppa in un'altra prospettiva la prudenza considera i mezzi per raggiungere la felicità abbiamo detto però in un altro contesto che la prudenza valuta anche i fini i fini però della prudenza sono immediati invece la sapienza considera l'oggetto stesso della felicità e cioè l'intelligibile supremo l'oggetto della sapienza è Dio ma oltre a questo tiene in considerazione il fine ultimo e il fine ultimo evidentemente è Dio quindi da una parte la prudenza che valuta i mezzi per raggiungere la felicità immediata dall'altra la sapienza che tiene come oggetto Dio che è la felicità per eccellenza 3 più una conoscenza è perfetta più è superiore ora noi possiamo avere una conoscenza più perfetta delle cose umane oggetto della scienza che delle cose divine oggetto della sapienza secondo la distinzione di Sant'Agostino poiché le cose divine sono incomprensibili come dice la scrittura ecco Dio grande vince la nostra scienza quindi la conclusione è questa è più importante la scienza della sapienza perché almeno la scienza mi fa conoscere i vari teoremi le leggi la legge di Einstein sulla relatività mi fa ricordare i rapporti geometrici almeno qui abbiamo la sicurezza la sapienza parla di Dio però insomma Dio è incomprensibile alla fin fine è più importante la scienza della sapienza risposte il filosofo nota che una conoscenza è preferibile da un'altra o perché riguarda cose più nobili o per la sua certezza quindi in una prospettiva di certezza è vero quello che abbiamo detto perciò se gli oggetti rispettivi sono uguali in bontà e nobiltà tra due virtù sarà superiore quella che è più certa ma la conoscenza anche meno certa di cose più alte più grandi è da preferirsi a quella più certa di cose inferiori di fatto il filosofo insegna è preferibile conoscere poco di cose più nobili che conoscere molto di cose meno nobili quella poca conoscenza di Dio che la sapienza può procurare è da preferire a ogni altra condizione capite? quindi a parità di oggetto no? a parità di oggetto è chiaro che più importante una conoscenza certa da quella incerta pensate a dei medicinali che si devono utilizzare per curare un ammalato a parità di effetto io utilizzo quello più certo che quello che non mi dà un'adeguata certezza ma pensate su medicinari su una malattia gravissima dove il primo beh conosciamo bene gli effetti ma in quella situazione particolare non si sa bene se riuscirà a guarire il malato e l'altro i cui effetti sono incerti sembra un po' il discorso del vaccino del covid però in una situazione di questo genere o si mangia la minestra o si salta dalla finestra la seconda soluzione sembra la migliore a parte che io adesso qui sto facendo dei rapporti tra cose immanenti qui invece abbiamo di fronte un oggetto certo che può essere quello della scienza ad un oggetto incerto che è quello della sapienza che è Dio e che è decisamente più nobile e più importante perciò è secondo lo stesso Aristotele meglio avere poche conoscenze su l'oggetto più nobile che avere delle certezze matematiche sull'oggetto meno nobile rimane quindi la sapienza al primo posto rispetto alla scienza e concludiamo con l'articolo 6 e concludiamo valutando le virtute ologali quale la più importante beh questo ce lo dice già la Bibbia comunque è giusto riflettere anche su questo argomento la carità è la più alta tra le virtute ologali anche se l'obiezione evidentemente sostiene il contrario ce lo dice l'apostolo ora queste tre cose perdurano fede speranza e carità ma la più grande tutta la carità perché noi abbiamo detto che una virtù è più importante dell'altra in riferimento all'oggetto ma qui l'oggetto è uguale sia nella fede sia per la speranza che per la carità l'una non può dirsi maggiore dell'altra per la superiorità dell'oggetto ma per un'altra ragione per il fatto che una lo tocca più da vicino la fede e la speranza sono lontane ancora da Dio infatti le altre stiamo parlando della fede e della speranza implicano nella loro nozione una distanza dall'oggetto la fede è di cose che non si vedono la speranza è di cose che non si possiedono invece l'amore di carità ha per oggetto una realtà già posseduta poiché l'amato in qualche modo si trova in chi l'ama ecco perché Giovanni scrive chi sta nella carità sta in Dio e Dio in lui è come il rapporto tra due amanti e come il rapporto reciproco che ci può essere tra una mamma e un figlio infatti è proprio Paolo che porta quell'esempio per mettere in evidenza l'unione perfetta che c'è tra un uomo e una donna siate uniti come è unito Cristo e la sua chiesa l'amore dell'uno è nell'altra e l'altra l'amore dell'altra nell'uno come l'amore della chiesa è in Cristo e l'amore di Cristo è nella chiesa ecco perciò che nella carità Dio oggetto della carità è più vicino a noi che nel rapporto di fede e di speranza vediamo le obiezioni la fede risiede nell'intelletto la speranza invece la carità risiede nell'appetito perciò sembra che la fede stia alla speranza e alla carità come le virtù intellettuali stanno alle virtù morali vi ricordate che tra le virtù intellettuali troviamo come soggetto la ragione e la ragione è la guida della prudenza quella virtù che fa sì che tutte le altre virtù morali possano trovare degli strumenti adeguati e che ne definisce anche il fine prossimo e la prudenza in questo senso è superiore alle virtù morali l'abbiamo detto l'abbiamo dimostrato proprio perché partecipa maggiormente della ragione allora visto che la fede sembra trovarsi in questo stesso rapporto con la carità la fede dovrebbe essere superiore alla carità ma non è così la fede e la speranza non stanno affatto alla carità come la prudenza e le virtù morali e questo per due ragioni perché le virtù teologali hanno un oggetto che trascende l'anima umana invece la prudenza e le virtù morali riguardano cose inferiori all'uomo cioè il rapporto di analogia qui non ci sta ora contrariamente a quello che avviene nelle cose naturali come abbiamo detto nel rispondeo e abbiamo spiegato il perché nelle cose che sono al di sopra dell'uomo l'amore è superiore alla conoscenza perché nell'amore Dio è nell'uomo e l'uomo è in Dio mentre nella fede e la speranza non è così di fede e speranza sono lontane dal loro oggetto ma poi perché la prudenza a modere i moti appetitivi appartenenti alle virtù morali la fede non modera proprio un bel niente non modera l'appetito tendente verso Dio anzi lo alimenta e cerca di mostrare la carità all'oggetto alla carità e alla speranza anzi questo moto appetitivo verso l'oggetto trascende la conoscenza umana secondo l'espressione di San Paolo il quale parla dell'amore di Cristo che soppassa ogni scienza quindi non abbiamo più nulla a che fare con la prudenza non abbiamo più nulla a che fare con la ragione moderatrice abbiamo a che fare con un dono soprannaturale che è la fede e che trascende ogni scienza ma questo non vuol dire mi raccomando che perché trascende la scienza e quindi trascendendo la scienza trascende la ragione che si è razionale l'abbiamo detto tante volte la fede è irrazionale no la fede non è irrazionale è arrazionale non ha bisogno della ragione ma la fede si può comprendere possiamo dare una spiegazione razionale a questa fede ed è quello che stiamo facendo qui in questo momento la fede ha come oggetto Dio e come tale si trovi un rapporto differente dalle altre virtù che hanno come oggetto qualcosa di ben definito nello spazio nel tempo perciò visto che l'amore di Cristo sorpassa ogni scienza dobbiamo ricordare che la prudenza non ha nulla a che vedere con una specie di regola che riesca a dare un ordine alla fede della speranza e della carità che sono nella prospettiva di Tommaso tutte e tre virtù infuse e lo vedremo infatti nell'altra obiezione dove c'è scritto la causa è di sopra del suo effetto ma la fede e la speranza sono causa della carità la grossa infatti spiega che la fede genera la speranza e la speranza la carità quindi la fede e la speranza sono superiori alla carità perché perché la causa è superiore all'effetto questo è uno uno dei principi uno dei caposaldi delle conoscenze intellettive aristoteliche la causa principale è certamente superiore al suo effetto ma non già la causa dispositiva che vuol dire vuol dire che nella prospettiva di Tommaso la fede non genera la speranza e la speranza è la carità ma la fede dispone a ricevere la speranza e la speranza dispone a ricevere della carità io non l'avrei spiegato in questo modo io come al solito avrei detto la fede è il primo punto di partenza e la fede è un dono che Dio eh eh elargisce liberamente e che l'uomo può accogliere o non può accogliere già avevamo fatto questo esempio più di una volta la fede è un tesoro nascosto in un campo è chiaro che se io non lo cerco non lo troverò mai se poi addirittura mi rifiuto di cercarlo perché temo di trovarlo e quindi di essere poi eh intrappolato in certi doveri peggio ancora lì c'è proprio la cattiva volontà ma nel momento stesso in cui c'è la fede e la fede genera la speranza e poi la speranza genera la carità visto che tutto viene da Dio non si può pensare che la fede sia superiore alla speranza e la speranza è superiore alla carità è una concatenazione necessaria e allora a questo punto noi scopriamo proprio per le spiegazioni date nelle questioni precedenti che la carità è superiore alla fede e alla speranza perché una volta che si arriva alla carità in una successione evidentemente necessaria la carità poi riempie di sé anche le prime due virtù e le rende vive le rende infuocate abbiamo finito la maratona della questione 66